Il lupo dice a Cappuccetto Rosso, raccoglie dei fiori per la nonna. Cappuccetto Rosso ama raccogliere i fiori. La favola di Cappuccetto Rosso è una di quelle storie conosciute da tutti i bambini e che da adesso alla biblioteca di Arezzo può essere letta anche attraverso i simboli, che collocati accanto al testo rendono accessibile il libro anche ai piccoli che manifestano difficoltà di comunicazione verbale. Siccome esistono dei simboli è opportuno utilizzare una tecnica che si chiama modeling o modellamento con la quale l'adulto indica il simbolo via via che legge le parole. Questo favorisce l'associazione tra la parola pronunciata e il simbolo. Il tipo di lettura che si fa con il bambino è essenzialmente un tipo di lettura non prestazionale, quindi esattamente come leggiamo con tutti i nostri bimbi si legge proprio per il piacere di leggere senza fare alcun tipo di richiesta al bambino. La biblioteca a retina grazie ad un progetto con l'ASL è diventata ancora più inclusiva grazie ad una sezione di libri in simboli. La necessità è nata perché in commercio esiste un'offerta delle case editrici di libri in simboli e noi volevamo rendere disponibile alle famiglie la possibilità di consultarli prima di acquisirli. Corre comunque accompagnare la famiglia o gli insegnanti del bambino una scelta consapevole del libro, quindi averli a disposizione e poterci lavorare in team è sicuramente una grande opportunità. Tutti conoscono la lettura dei testi per gli ipovedenti o per gli scechi e chiaramente questo è stato un progresso civile indubitabile. Oggi ci rivolgiamo ai bambini che hanno difficoltà di comunicazione. Predisporre questi strumenti significa rivolgersi ad una cittadinanza più vasta. L'utilizzo dei libri in simboli può essere utile non solo nei casi di disabilità del linguaggio ma anche per bambini in età prescolare o per bambini stranieri. In età prescolare, quindi alle materne, può sicuramente avvantaggiare l'apprendimento dei prerequisiti di letto scrittura, come per esempio nei bambini stranieri che vengono introdotti nel linguaggio italiano e che devono in velocità acquisirlo, quindi la lettura dei libri in simboli aumenta fortemente questa acquisizione e la sua velocità. I libri in simboli sono consultabili presso la biblioteca dei ragazzi. Li può consultare chiunque, spero in accordo con i nostri amici della ASL di poter adottare la biblioteca di un patrimonio librario di si fatta natura ancora più vasto a breve.